Ciao ragazzi, benvenuti alle pagelle di Bologna-Inter. Credo che oggi sarà una puntata epocale perché, beh, semplicemente perché raccogliamo quello che è la media voti più bassa da sempre, da quando faccio le pagelle per l'Inter per una partita. Solo in pochissimi si salvano con la sufficienza, forse due o tre, non mi ricordo, adesso vediamo. Anzi, adesso vediamo chi se la merita e perché gli altri non la meritano. E prima di iniziare con i voti, ovviamente, ecco, devo dirvi una cosa molto molto importante, vi rubo giusto un minuto, eh, nulla di che. Mi devo scusare perché ieri non ho fatto la live su Twitch post partita, l'avevo promessa, l'avevo anche annunciata direttamente su YouTube, però purtroppo per un problema tecnico legato a Twitch che non dipende però da me, non potevo fare la live. L'avevo provato a aspettare fino a mezzanotte e non si sbloccava la situazione e quindi la rimando a stasera. Quindi, ecco, questo, spero che, insomma, più gente possibile possa esserci stasera e sicuramente ieri saremmo stati molti di più perché dopo una sconfitta così c'è anche voglia di capire, di analizzare, di approfondire e sicuramente saremmo stati in varie centinaia. Stasera spero che ci possa essere comunque molta gente e proprio per questi problemi tecnici che a volte succedono tra Twitch che non fa fare le dirette o ci sono altri problemi, YouTube che purtroppo a volte con dei bug, non so se perché ci sono varie segnalazioni o non so che cosa, demonetizza i video. Purtroppo, con questi problemi vi chiedo veramente in maniera più diretta, sincera possibile, guardandovi proprio negli occhi, di sostenere il canale. Se credete che questo, quello che faccio ha un significato, è prezioso, ha un valore, ci vedete l'impegno che ci sta dietro e anche il modo con cui porto avanti questo progetto, sosteneteli in maniera attiva, non solo con i like, l'iscrizione, ma anche con l'abbonamento, ragazzi, su YouTube o anche su Twitch. Sono piccole cose simboliche per ogni individuo, diciamo così, però se siamo in un po' di persone a supportare questo progetto, la cosa può andare avanti, altrimenti è chiaro che a un certo punto ho 30 anni e mi devo anche porre qualche domanda e capire cosa voglio fare da grande, diciamo così. Ragazzi, andiamo alle pagelle. Allora, Radu, 4. Purtroppo, ovviamente, l'erroraccio pesa tantissimo, anche se è un concorso di colpe e ovviamente il giocatore non gioca tantissimo, è difficile per un portiere, è quello che vogliamo, però è determinante per il gol, quella cappella incredibile. Skriniar, 6. Ecco, lui è una delle pochissime sufficienze, ci prova in tutti i modi il nostro capitano. Do 6 anche per come si è comportato alla fine della partita, scudando Radu, cercando di aiutarlo, di coprire dalle telecamere, tutte queste cosette qui. E poi, in ogni caso, durante la partita ci ha messo il massimo, anche se poi non ha avuto molti sbocchi, i compagni non si muovevano molto, non trovava molti corridoi, non è quello che deve inventare l'azione, ovviamente. È arrivato anche al tiro qualche volta e poi, messo sulla sinistra, ha commesso però degli errori e qualche imprecisione di troppo. Quindi, appena al 6, ok, di più, stento anche darlo a Skriniar. De Vrij, 5+, non riesce a seguire Arnautovic praticamente mai, non tenta quasi mai l'anticipo, è sempre in ritardo, sempre in copertura, ma non serviva un uomo di copertura su Arnautovic, bisognava che ci fosse uno in marcatura. E anche nell'azione del gol, che arriva il primo gol, dove Arnautovic va da solo contro Di Marco, ovviamente, sfruttando il mismatch fisico, forse De Vrij poteva fare qualcosa di più, raddoppiando. Di Marco, do un 6 anche a Di Marco, sul gol non è colpa sua, è semplicemente un dato di fatto, che i centimetri continuano, soprattutto sulle palle inattive, sulle palle alte o comunque sul gioco aereo. Ecco, e quindi non può fare molto di più che quello, che non usano un po' il fisico per spostare Arnautovic, ma non è molto semplice, no? Poi prova a rifarsi un pochino durante la partita, spingere parecchio, ma mette più intensità e voglia che qualità in realtà nelle giocate che lo portano ad essere pericoloso. Doomfries, 4,5, mi dispiace tantissimo, sapete quanto Doomfries sia un bravo ragazzo, sia anche un buon giocatore, però è un buon giocatore ma è limitato comunque. Ieri non ha mai puntato l'uomo, è una cosa che lui si porta dietro da parecchio tempo, punta troppo poco l'uomo, troppo poco coraggio, lo punta solo se è certo di andare via, altrimenti non ci prova mai. In area, tra l'altro ieri è arrivato col pier di testa, ma sempre sbagliando i tempi, buttando via il pallone e saltando scordinato. Quando non ha spazio e gli viene servita la palla sui piedi, non prova neanche a fare qualcosa, ma la passa continuamente indietro, in maniera sistematica. Io non solo contro i passaggi all'indietro, e lo sapete, ci sta la costruzione, ci sono giocatori che magari non sono tecnici, non riescono a puntare l'uomo, e ci sta che appoggino il pallone piuttosto che buttarlo via, però un conto è farlo spesso, un conto è farlo sempre, in maniera sistematica, come se fosse l'unica cosa possibile che ti viene in mente, a tratti quasi irritante. Barella, 5 più, parte dando gamba, dando intensità, dinamicità al centrocampo, quindi è abbastanza bene, appena però abbiamo subito il primo gol, comincia a perdere la testa, a perdere lucidità, sbagliare le scelte, anche alcune clamorose che potevano essere occasioni da gol, prende poi un giallo per proteste, sbraita anche quando viene sostituito, ecco, queste cose non mi piacciono. Brozovic, 5 e mezzo, non commette molti errori, Brozovic non è che abbia giocato moltissimo in realtà, e quindi non è neanche commesso molti errori, ma è sempre stato schermato, pressato e seguito da Barro, non riesce neanche a impostare più di tanto, è con serenità, però la partita è grigia più che nera, ecco. Cialanoglu, do un 6 più a Cialanoglu, perché nel primo tempo è stato il migliore, proprio a mani basse dell'Inter, a parte l'ha giocato di Perisic, è stato, insomma, sì, il migliore, è l'unico faro, l'unico che riusciva un po' ad abbassarsi, a prendere palla, a costruire, a creare qualche pericolo, provare magari una giocata, un pallone da fuori, qualcosa del genere, o a recuperare anche palloni, quindi metterci anche intensità in maniera però precisa, non frenetica. Poi piano piano però è calato, anzi forse da 6 più caliamolo a 6 questo voto, diamogli un 6 più che un 6 più. Piano piano nel secondo tempo è calato, i compagni però anche se sono mossi molto poco, quindi era difficile per lui inventare chissà quale giocata. Perisic, 6 e mezzo, ovviamente pesa molto il suo gol, molto bello, gol mozzafiato, bellissimo, e continua anche nel primo tempo spingendo, provando anche qualche giocata, però successivamente il gol preso, cosa succede? Succede che Di Marco lo porta, diciamo, Di Marco diventa un po' frenetico, vuole farsi perdonare, spinge tantissimo in avanti e questa cosa porta più volte Perisic a doversi fermare per coprire le scorribande di Di Marco. Quindi è vero che Di Marco si è reso pericoloso, ma Perisic non ha potuto spingere in modo altrettanto offensivo. Poi nella follia generale ha battuto una rimessa direttamente praticamente verso la porta di Radu, mettendolo in difficoltà, quindi oltre 6 e mezzo, per quanto il gol sia bellissimo non si può andare. Correa, 5 e più, purtroppo troppo mollo, leggero, insufficiente, gli spazi sono stretti, ma doveva comunque dare di più. Nella passività di Correa di ieri, che non mi è piaciuto e da cui ci dobbiamo aspettare di più, anche perché ha fatto molto bene le ultime partite invece, nella sua passività comunque è riuscito a trovare un'incornata pericolosissima su calcio d'angolo che il portiere Bologna ha salvato in maniera incredibile e una girata con molto tecnica che ha fornito un assist a Doomfries che poi non ha tirato, ma problemi di Doomfries. Correa comunque nella sua passività e mollezza insufficiente è riuscito a fare almeno due robe, ecco, in area. Lautaro invece 5, perché lui sembra reattivo, sembrerebbe apparentemente un po' più, in realtà non è mai pericoloso, sbaglia spesso la scelta, sull'1-0 può fare almeno due volte molto meglio, creare e avere delle occasioni, invece ha cannato clamorosamente, quindi Lautaro è riuscito nell'impresa di essere ancora più nullo di Correa, pur sembrando più reattivo e più così, ha fatto ancora meno. Dzeko 5,5, non è che sia colpa sua, però insomma è stato messo dentro in area, sostanzialmente non ha fatto quasi nulla, è stato messo dentro per dare peso in area, però non gli è arrivato nessun pallone vincente e l'Inter di fatto non si è più trovato in campo con i cambi di Inzaghi e non ha più costruito azioni, quindi Dzeko si l'ha messo dentro ma un po' è già appannato di suo, in più non ha avuto nessun tipo di azione creata, pulita per servirlo, eccetera, eccetera, per sfruttarlo anche e quindi non ha dato quasi nulla. Sanchez 4,5, continue pirouette in giro per il campo, azioni frenetiche che non portano a nulla, tanto fumo e basta, neanche poco arrosto, proprio fumo e basta, fumogeni, tanti fumogeni colorati, crea spesso confusione in campo, si pesta i piedi con i compagni, a volte ruba la palla anche dai compagni, rischia di passaggi che per poco non vengono intercettati e portano a ripartenze, insomma, sì, tanto fumo e questa cosa può anche elettrizzare un po' perché vedi questi colori sgargianti, giallo, rosso, viola, arancione, di tutti i colori, di tutto e più, però di fatto, di fatto va a vanificare le azioni dell'Inter, va a scompiliare la struttura dell'Inter che quella coralità che è l'arma vincente per creare le occasioni fa tanto casino e tocca tanti palloni e non combina nulla. Inzaghi, quattro, ecco qua i voti ragazzi, vedete che le sufficienze sono veramente poche, ho dato anche questi più a ciala, portiamola a sei appunto. Inzaghi, quattro, mi dispiace ma la partita parte in discesa, ma appena abbiamo segnato il gol, anzi appena, sì abbiamo segnato noi il gol, esatto, il primo gol, subito l'Inter è diventata passiva e ha smesso di costruire, quando bisognava invece azzannare ancora di più la partita e sfruttare il momento. Lì, Inzaghi doveva farsi sentire e a volte sembra quasi che non abbia la squadra, che non riesca a controllare la squadra e a piegarla al suo volere, sempre che il suo volere fosse quello giusto, cioè di azzannare la partita perché se il suo volere magari fosse veramente, fosse stato, il suo volere era, sono perso la conseguenza temporum ragazzi, perdonate, ma se il suo volere era quello di veramente di riabbassarsi, controllare un attimo, allora la squadra ha fatto esattamente questo e ha sbagliato. Dicevo, un'altra cosa importante, ecco dal gol poi addirittura di Arnautovic è successo che abbiamo anche cominciato a giocare in maniera disordinata e nervosa, anche questa cosa non è possibile e non è la prima volta che succede, quindi Inzaghi non può essere esente da colpe. Poi i cambi peggiorano ulteriormente l'inerzia della partita perché stravolgono anche le poche certezze rimaste e distruggono totalmente la partita. Quando c'è frenesia, sei nervoso, hai pressione, almeno se la tua funzione tattica c'è, ti trovi in campo, si sbagli qualche scelta ma a forza di avere i palloni e costruire pian piano un'azione riesci anche a imbastirla, anche se sei un po' sotto pressione. Se perdi anche quelle certezze lì della tua costruzione del modulo in campo, di come ti trovi, come sviluppi e tutto, assi saldi chi può. Non a caso l'Inter negli ultimi 30 minuti ha fatto disastro totale, cioè proprio non ha giocato, cioè sei brava di vedere una partita totalmente insensata. Chiaro, si attaccava con tutti gli uomini quindi Bologna era un po' più basso ovviamente, ma non abbiamo mai costruito un'azione seria, pulita, in maniera organizzata e ordinata. Era tutta frenesia a caso e questa cosa non è vincente. Poi figuriamoci i cambi. Gagliardini per Celanoglu non ha senso, Sanchez per Barella neanche quello ha senso. La difesa a 4 al sessantesimo, non all'ottanta, al sessantesimo è l'emblema della perdita totale di lucidità. Questa cosa qua me l'aspetto da tifosi. Cioè i tifosi che dicono basta, difesa 4, bim, 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 ma non dal tecnico, non dal tecnico dell'Inter. Questa roba qui è proprio una roba di pancia, sembra quasi una roba di pancia che infatti non porta ai risultati. lo dico sempre, il populismo, la pancia, l'ira, le chiacchiere da bar non portano mai ai risultati. Magari sembrano belle da dire, prendono l'attenzione dei gonzi, ma quello che conta è i risultati. I risultati li porti a casa con l'analisi, con la competenza, con le cose giuste, con il ragionamento, con il controllo delle cose che hai sotto, col mantenimento del controllo tuo, la pazienza e anche controllare le cose che hai di fronte invece di buttare tutto quanto in cacciara. Quindi questa mossa veramente è deludente. Abbiamo perso totalmente gli equilibri in campo, l'ordine in campo. La bocciatura di Vessino in una partita come questa è masochismo puro. Anche qua me l'aspetto dei tifosi che dicono ah Vessino via, ma non si può tenere fuori uno come Vessino in una partita come questa, come quella del genere di ieri. Soprattutto se prevedevi un finale con tanti palloni sporchi di poca qualità buttati in mezzo, l'incursore, quello che all'artigliano a finale, almeno quello devi metterlo in campo. Servivano giocatori ieri come D'Ambrosio, come Vessino, come Correa, come Dzeko fino alla fine per trovare sinergie visto che avevi perso un po' la testa in campo. bisognava almeno trovare sinergie tra caratteristiche dei singoli tra centimetri inserimenti e giocate mantenendo però la struttura di gioco inalterata e per produrre quindi azioni un po' pulite perché è vero che tu metti dentro Dzeko oppure dovevi mettere dentro anche Vessino tenere dentro Correa mettere D'Ambrosio terzo di destra mettendo magari togliendo De Vrij più che De Marco e tenendo screener in mezzo per esempio per marcare anche Arnautovic meglio a questo punto è vero che c'erano questi giocatori ma se tu non hai la struttura di gioco che ti consente di far arrivare in mezzo dei palloni sensati puoi avere anche giocatori messi dentro ma non fai nulla quindi bisogna mettere questi giocatori specifici per le loro caratteristiche adatte al tipo di partita di ieri ma tenendo tenendo la tua struttura di gioco e quindi a maggior ragione devi mettere questi giocatori e non altri cioè togli Barella metti Vessino togli Lautaro per esempio che ha fatto il nulla cosmico ieri e metti Dzeko togli De Vrij sposti Screener metti D'Ambrosio terzo in questo modo sei molto più offensivo senza perdere equilibrio perdere struttura perdere le tue cose poi viene addirittura ammonito c'è la Noglu che salta la prossima perché la scorsa partita vi ricordate vi dicevo bisognava sostituirlo prima eravamo in tranquillità con i risultati eccetera eccetera invece l'abbiamo fatto ammonire è entrato in diffida oggi era in diffida cioè poteva appunto si era in diffida esatto ha preso l'ammunizione a questo punto fa lo giocato tutta la partita perché lo devi togliere tanto la prossima non la gioca quindi veramente tutto non c'è una roba che abbia un senso che sia uno uno veramente sbando completo e questa cosa non la posso accettare dal tecnico posso accettare dai tifosi incazzati che chiedono di stravolgere da qualsiasi cosa e fare le cose ma non dal tecnico che dovrebbe avere le cose sotto controllo ora si fa dura dipendiamo dal Milan che è caricato a palla a pallettoni dai nostri errori in primis e in secundis anche dai media amici che dite quello che volete ma hanno supportato il Milan ultimamente in maniera enorme affossando l'Inter mettendo ancora più pressione all'Inter ieri vedete come i voti sono molto negativi ma non dimentichiamoci che l'Inter gioca con una pressione con una propaganda contro che è incredibile e questa cosa pesa poi noi ci mettiamo il nostro a maggior ragione poi con errori cavolate varie e peggioriamo le cose questo è tutto ragazzi vi saluto ci vediamo fra poco insomma su Twitch in live spero che appunto sarete in molti rinnovo veramente la richiesta di supportare il canale perché siamo in 30.000 iscritti a questo canale o anche di più e gli abbonamenti su YouTube sono 50 si può fare di meglio secondo me almeno io ci credo almeno per adesso voglio ancora crederci che questa cosa possa avere un futuro e quindi e quindi ecco mi rimetto a voi se poi voglio dire i contenuti non dovessero essere apprezzati tanto quanto mi aspetterei eccetera devo prenderne atto semplicemente capisco che si può piacere ma troppo pochi e quindi e quindi posso fare dell'altro insomma molto semplice quindi devo un po' ragionarci ecco sono in un momento in cui sto cominciando a riflettere al al vicino ai 30 anni quasi 30 anni che vado a compiere fra pochi mesi è giusto che insomma che ci ragiona un po' su e che vedo un po' cosa fare da grande ragazzi vi saluto forza Inter intanto non è finita ma non bisogna sbagliare nulla bisogna vincere le tutte e sperare e sperare ma sarà complicata ciao ragazzi a fra poco forza Inter in ogni caso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti